Buona giornata, sabato 5 dicembre, queste le ultime notizie da Ferrara Provincia, ma cominciamo con una notizia che riguarda ovviamente l'Italia intera, cioè quello delle cosiddette colorazioni delle regioni a partire da domani, quindi da domenica 6 dicembre. Ebbene, le regioni Emilia-Romagna, Friuli, Venezia-Giulia, Marche, Puglia e Umbria passano da area arancione ad area gialla. Lo prevede una delle tre nuove ordinanze che il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato sulla base dei dati della cabina di regia tenutasi ieri. Le ordinanze saranno in vigore, ripeto, da domani, domenica 6 dicembre e inoltre sono rinnovate le misure restrittive vigenti relative alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte. In particolare, Piemonte e Lombardia restano arancioni come dalla scorsa settimana, in fascia arancione anche Calabria e Basilicata, mentre l'Abruzzo permane in fascia rossa. Per finire, Campania, Toscana, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano passano da area rossa ad area arancione. Intanto purtroppo si registrano ancora decessi a Ferrara Provincia nelle ultime 24 ore. Nel bollettino di ieri pomeriggio si sono contate 8 vittime per complicanze da Covid-19, tra cui anche un collega giornalista di Codigoro. 67 nuovi contagiati e 5 nuovi ricoveri al Sant'Anna. In regione intanto cala l'indice RT sul territorio, che scende sotto 1, esattamente a 0,99, ma aumenta il numero delle persone ricoverate. Vediamo dunque il bilancio. Sono 67 nuovi contagiati da Covid-19, individuati con 675 tamponi refertati, di cui 48 asintomatici e 19 con sintomi. Nel bollettino di venerdì 4 dicembre si registrano anche 8 nuovi decessi, 6 uomini di 80, 82, 85, 86, 87, 88 anni e due donne di 92-95 anni. Tre di loro erano ospiti di strutture e residenze per anziani e tutti avevano patologie pregresse concomitanti. In totale le vittime da Covid-19 registrate nel Ferrarese da inizio pandemia sono salite a 292, 158 donne e 134 uomini. Sempre nel bollettino del 4 dicembre si trovano 5 nuovi ricoveri per Covid positivo all'ospedale Sant'Anna di Cona, 17 le persone ricoverate in terapia intensiva, una in meno rispetto alla giornata precedente, 384 le persone entrate in isolamento domiciliare nelle 24 ore e 412 quelle uscite. Sale anche il numero di personale medico e sanitario contagiato da Covid-19, 52 in azienda sanitaria e territoriale e 37 in azienda ospedaliera universitaria Sant'Anna. In Emilia-Romagna i nuovi casi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 2.143 rilevati su 17.667 tamponi effettuati. Sfonda così quota 130.000 il numero dei contagi in regione da inizio pandemia. L'indice RT sul territorio scende sotto 1 a 0,99 ma aumenta il numero delle persone ricoverate. In terapia intensiva ci sono 248 pazienti, 3 in più rispetto alla giornata precedente e negli altri reparti Covid ci sono 49 persone in più per un totale di 2.717. Nel bollettino di venerdì 4 dicembre si registrano ancora 63 nuovi decessi. Dei nuovi contagiati, secondo il bollettino regionale, 1.017 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Intanto dalla regione arrivano 32 milioni di euro per sostenere le strutture per anziani e disabili durante l'emergenza Covid. Si tratta di contributi per gli aumenti dei contratti degli operatori, i posti non occupati durante la pandemia e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Sentiamo Ellie Schlein, vicepresidente della regione Emilia-Romagna. L'abbiamo affrontato da molti punti di vista e in questi ultimi due interventi abbiamo dato 32 milioni aggiuntivi in particolare per sostenere le spese avute sui dispositivi di protezione individuale, per coprire i posti rimasti vuoti in quei mesi per decisione della regione per cautela e anche naturalmente per coprire gli aumenti tariffari e quindi gli aumenti contrattuali per gli operatori sociosanitari. Il tutto in prospettiva che sappiamo dovremo ripensare il sistema sociosanitario per qualificare i servizi alle persone, il lavoro in quelle strutture e la loro sostenibilità economica. Stiamo dialogando con tutto il settore, i gestori pubblici e privati, naturalmente i territori e anche i sindacati per come dovremo ripensare il futuro del sistema sociosanitario, da un lato investendo sulla territorialità, sulla domiciliarità e poi naturalmente qualificando queste stesse strutture dove è necessario anche che si diversifichi il livello di presenza di supporto sanitario. Già da ottobre come regione abbiamo messo a disposizione la possibilità di utilizzare i tamponi rapidi anche per gli operatori nelle strutture residenziali per anziani disabili e per garantire delle visite in sicurezza perché mentre tuteliamo la salute delle persone degenti dal covid non dobbiamo dimenticare i rischi di un prolungato isolamento di queste persone anziane o con disabilità. Questa è dunque la parola della vicepresidente della regione Emilia Romagna ma adesso torniamo in città per parlare di Acer Ferrara che in questi giorni ha presentato il bilancio di sostenibilità ricordando anche i cento anni dell'associazione i cui festeggiamenti sono stati rimandati al prossimo anno in seguito all'emergenza covid. E a proposito di pandemia in tempi appunto di coronavirus Acer ha mostrato vicinanza alle persone in difficoltà. Ce ne ha parlato il direttore Diego Carrara. A proposito di covid cosa è successo in questi mesi per i residenti delle case popolari? Il covid è stato un momento molto difficile perché come sapete abbiamo una presenza ad esempio significativa di persone anziane in molti casi soli che stanno all'interno degli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica. Per cui abbiamo pensato insieme devo dire a quasi tutte le Acer dell'Emilia Romagna di farci di stare in ascolto di essere in grado di raggiungere i nostri anziani soli attraverso telefonate che abbiamo fatto un po' tutti e che ci hanno consentito di capire qual era lo stato d'animo e qual era anche l'eventuale situazione di difficoltà di qualche nucleo di anziani o degli anziani soli. Per cui ci siamo come dire messi a disposizione per cercare di capire se era necessario fare intervenire i servizi sociali, se era necessario collegare gli anziani ai sistemi che poi sono stati messi in moto e che fornivano la spesa oppure altri servizi agli anziani di cui potessero appunto aver bisogno. Insomma abbiamo cercato di stare vicino soprattutto a questa parte della popolazione che come si evidenzia dal bilancio di sostenibilità raggiunge quasi il 30% all'interno dei nostri alloggi in provincia di Ferrara, quindi è una percentuale molto elevata anche di grandi anziani, cioè di persone che hanno più di 75 anni. Ecco questo contatto che abbiamo ottenuto ci ha consentito proprio di capire qual era la situazione, di intervenire dove c'era bisogno e dall'altra parte devo dire, e questo ci ha fatto davvero molto piacere perché vuol dire che abbiamo fatto la cosa giusta, abbiamo avuto diversi ringraziamenti da anziani soli che hanno sentito la nostra voce, che hanno approfittato per fare diciamo con noi delle chiacchiere che andavano anche oltre i propri bisogni e quindi hanno sentito la nostra presenza. Questo credo che sia un elemento di cui in prospettiva dobbiamo tenere conto e questo rapporto che devo dire c'è sempre stato ma è stato appunto più presente durante il Covid intendiamo assolutamente, vedremo in quali forme, ma portarlo avanti. Intanto parliamo adesso del prefetto Michele Campanaro che ha presieduto ieri in videoconferenza da Palazzo Don Giulio d'Este una riunione tecnica di coordinamento nel corso della quale in vista del ponte dell'Immacolata fino ovviamente all'8 dicembre sono stati rimodulati i servizi di vigilanza tesi a garantire il rispetto delle norme assembramento ed in funzione antiterrorismo tenendo conto delle indicazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre in vigore dalla giornata di ieri. Erano presenti il questore Cesare Capocasa, il comandante provinciale dei Carabinieri Gabriele Stifanelli e il comandante provinciale della Guardia di Finanza Cosimo Delia. Il prefetto ha evidenziato che il nuovo decreto presidenziale non ha disposto alcun allentamento delle misure di contenimento e di diffusione della pandemia attualmente in vigore prevedendo invece ulteriori specifiche limitazioni in vista delle prossime festività natalizia di fine anno comprese tra il 21 di dicembre e il 6 gennaio 2021. Intanto oggi e domani si tiene la 24esima edizione di Monumenti Aperti ma ovviamente in formato digitale in seguito alla pandemia. L'iniziativa avrà un legame anche con Ferrara e verrà messa in onda sui social network per il pubblico nelle giornate del 12 e del 13 dicembre. Ce ne ha parlato Marcos Garbi di Ferrara Off che è i promotori di questa iniziativa. Che cos'è quest'anno Monumenti Aperti e quindi in pratica come verrà organizzato e gestito? Allora diciamo che Monumenti Aperti da sempre ha questa peculiarità ovvero quella di esaltare, di far conoscere, scoprire il patrimonio materiale ovvero quello dei luoghi di cultura, dei monumenti storici delle città. Ferrara ormai si faceva da tre anni attraverso una modalità che appunto conoscevamo e quest'anno all'inizio dell'anno abbiamo in qualche modo dovuto rivedere i nostri piani proprio per l'emergenza Covid e dopo diciamo un'attenta riflessione abbiamo deciso di rivolgere le nostre attenzioni verso la valorizzazione di un altro tipo di patrimonio ovvero un patrimonio immateriale, quello della storia e nello specifico per questa quarta edizione ferrarese la storia della città di Ferrara dalle origini ad oggi con un focus anche sull'evoluzione dell'arte dalla preistoria ai nostri giorni a Ferrara. Quindi un patrimonio immateriale che riguarda la storia e direttamente anche la trasformazione sociale, la trasformazione dell'uomo, la trasformazione civica per riconoscere in qualche modo, andare a riscoprire le proprie origini del territorio. Ecco, tante classi coinvolte, leggiamo appunto 21 classi di 11 scuole, come è stato organizzarle in questo contesto completamente diverso? Diciamo che sicuramente è stato complesso fin da subito, anche se a settembre avevamo ancora molte speranze di poter lavorare in presenza con tutte le classi che erano coinvolte, ma ben presto queste speranze diciamo sono state deluse. Non siamo riusciti quindi a fare tutti i percorsi formativi, didattici e tecnici in presenza, ma abbiamo comunque applicato quella che ormai è diventata una modalità standard di relazione, che è quella digitale, che è quindi una sorta di didattica a distanza che anche noi abbiamo messo in atto. Quindi i nostri formatori teatrali hanno lavorato laddove non potevano in presenza online e le insegnanti sono riuscite attraverso un po' gli aspetti tecnici che abbiamo fornito loro a mettere in moto quel processo di realizzazione dei video che stiamo finendo proprio in questi giorni di assemblare e che poi durante la giornata del 12 e il 13 dicembre saranno in streaming online. Adesso una notizia di queste ultime ore, da poco è letta la consulta del Parco del Delta del Po Emilia Romagna in occasione dell'assemblea del Comitato Esecutivo del Parco. Il Parco del Delta del Po Emilia Romagna, in un'ottica di tutela e valorizzazione della sua doppia anima ferrarese-ravennate ha scelta di nominare un rappresentante per città di ciascuna categoria prevista anche se il regolamento non lo avrebbe richiesto d'obbligo. Una scelta che permetterà di dare voce a davvero tutti gli operatori coinvolti. La consulta prevede almeno un rappresentante di organizzazioni sindacali, associazioni ambientaliste, associazioni agricole, associazioni culturali e sociali, categorie dell'artigianato, commercio, turismo e pesca. È importante sottolineare come la consulta del Parco sia un organo di rilievo che assiede presso la comunità del Parco a Comacchio convocato almeno due volte all'anno dal delegato della comunità del Parco, ovvero Andrea Marchi, nell'ambito del Comitato Esecutivo che la presiede. La consulta esprime il proprio parere obbligatorio, ma non vincolante, riguardo a proposta del piano e del regolamento del Parco, proposta di accordo agroambientale del Parco, presso la quale è istituita, i progetti di intervento particolareggiato del Parco presso il quale è istituita e altri atti di particolare rilevanza per i quali il Presidente ritenga di dover acquisire il parere della consulta. Una scelta quella del Parco di fare questa nomina doppia per ciascuna categoria che rende chiara la politica di inclusione che si vuole perseguire in un'ottica di grande rispetto di tutte le parti e di territori coinvolti. E vi ricordo che tutti i nominativi sono presenti sul nostro sito telestense.it. Adesso invece parliamo del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara che ritrova l'antica sede di Palazzo Naselli Crispi. I lavori post-sisma iniziati a fine agosto 2018 sono terminati la scorsa estate ed hanno permesso all'ente pubblico di rientrarne in pieno possesso. Vediamo. Il Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara ritrova la sua antica sede di Palazzo Naselli Crispi in Borgo Leoni. I lavori post-sisma iniziati a fine agosto 2018 sono terminati la scorsa estate e hanno permesso così all'ente pubblico di rientrarne in pieno possesso. Punto di partenza 2012, Tremoto. Qui era la sede amministrativa del Pianura di Ferrara. Questo palazzo proprio per le sue caratteristiche ha avuto dei danni molto importanti. e quindi la prima fase è stata mettere in sicurezza il palazzo, spostare tutta la parte amministrativa nella sede di Via dei Romei e poi cominciare a fare un lavoro molto difficile, molto complesso per il recupero del palazzo ma anche di conservazione ma rimanendo comunque luogo di lavoro c'era tutta la problematica degli uffici, dell'anticismica e anche di adeguare il palazzo sotto degli aspetti più tecnologici perché è chiaro che quando fai un'ispezione molto importante e profonda al di là del Tremoto emergono tante, chiamiamo le piccole magagne e anche grandi magagne, quindi il palazzo aveva necessità di un importante rinnovo. Fortunatamente l'amministrazione precedente del primo circondario aveva già fatto una copertura sull'aspetto del Tremoto e quindi noi l'avevamo rinnovata e questo ci ha consentito di avere un indenizzo non indifferente sui danni del palazzo e inoltre la regione ci ha dato un contributo quindi abbiamo potuto utilizzare dei fondi pubblici la parte rimanente è stata finanziata tramite un mutuo da parte del Consorzio perché questo è un palazzo in proprietà. Lo storico palazzo che vede uniti uno stabile nobile del Cinquecento e uno più recente novecentesco dopo il terremoto del 2012 è stato riparato dai danni con interventi di miglioramento sismico delle strutture dell'immobile e riqualificato ad un totale restauro. È stato un percorso lungo perché Palazzo Vincolato abbiamo collaborato con le Belle Arti, giustamente è stato totalmente ricondizionato da un punto di vista dell'impiantistica quindi riscaldamento, aria condizionata, illuminazione e quindi è stato reso assolutamente un luogo di lavoro estremamente adeguato e confortevole. Detto questo abbiamo anche, pur rispettando ovviamente i vincoli architettonici e strutturali, anche riqualificato certi spazi per rendere il palazzo tutto sommato meno dispersivo e più utilizzabile. Parliamo adesso del libro 900 Ferrara Il sogno di una moderna metropoli, testo scritto da Alberto Guzzon architetto ferrarese impegnato in questa fase della sua ricerca sulla città di Ferrara e il territorio nella rivisitazione dei segni urbanistici dello sviluppo industriale della città nei primi decenni del 900. Dalia Bighinati l'ha intervistato in A Tu per Tu Come è nato questo libro e per chi? Poi vedremo che cosa c'è dentro. Ah, guardi, questo libro è nato essenzialmente perché ci troviamo di fronte ad una svolta storica di questa società. La pandemia praticamente ci ha messo di fronte all'esigenza di progettare il nostro futuro e di avere un'idea di quello che è stato il nostro passato per ridefinire l'identità cittadina. Il titolo del libro è essenzialmente 900 come primo titolo e sottotitolo Ferrara come sogno di una moderna metropoli perché io intenderei dire che Ferrara è stata un esempio a livello nazionale di come la città, una città italiana ha saputo rivitalizzarsi, ha saputo rigenerarsi dopo una pandemia che era quella della spagnola dopo tutta una serie di malattie veramente pesanti che hanno afflitto la provincia come la tubercolosi, il rachitismo insomma tantissime di queste situazioni che si andavano ad unire alla disoccupazione imperversante nelle campagne con povertà, con difficoltà nel trovare lavoro e se vogliamo dire anche fame proprio difficoltà ad alimentarsi quindi la città ha avuto questa occasione di rigenerarsi completamente diventando un esempio anche nazionale E prima di chiudere parliamo di Spal perché tra pochi minuti i bianco-azzuri scenderanno in campo al Paolo Mazza contro il Pisa seguiremo ovviamente la partita nel corso di match ma intanto pare essere vicino all'arrivo del portiere Stefano Minelli 26 anni, ex Brescia e Padova attualmente svincolato e se ne era già parlato anche durante l'estate ed evidentemente la società vuole cautelarsi dopo i problemi di salute di Beriscia Sentiamo intanto le parole dell'allenatore Pasquale Marino ieri pomeriggio in conferenza Sarà un periodo importantissimo come tutti i periodi come lo Stato quello che abbiamo vissuto in questa fase perché chiaramente abbiamo tante partite e soprattutto dobbiamo recuperare la nostra speranza di recuperare più uomini possibile per gestire meglio le energie quindi ci sono turni ravvicinati speriamo di affrontarli con più uomini che sicuramente aiuta a far bene ecco perché recuperare bene le energie è importante come ho detto in passato noi dobbiamo avere stimoli tutti i giorni tutti gli allenamenti l'entusiasmo che serve per allenarsi bene perché io come ripeto sempre quello che si fa in settimana si porta in partita per cui la classifica al momento non la guardiamo ci interessa noi cerchiamo di trarre il massimo di ogni partita e cerchiamo di farlo anche domani l'atteggiamento che dobbiamo mettere sempre lo stesso di fare molta attenzione soprattutto perché hanno giocatori davanti di qualità mi riferisco a Vido, a Marconi, Masucci, Palombi sono tutta gente che in questa categoria fa bene e quindi il livello di attenzione deve essere massimo E' ora appuntamento tra pochi minuti per seguire la partita nel corso di match prossima edizione del TV Giornale invece è questa sera alle 19.30 grazie per averci seguito a tutti buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito